Ciao ragazzi, stasera alla ricerca di calamari, nella tecnica Atraina con artificiali, adopereremo tre canne, ora i motori sono accesi, si sono riscaldati, ci dirigiamo nello spot desiderato e iniziamo finalmente la nostra traina alla ricerca dei calamari. Bene ragazzi, stiamo iniziando a cadare la prima canna, abbiamo all'incirca una velocità di uno e mezzo, due, e niente, incrociamo le dita per questa serata calamari. Ecco ragazzi, potrebbe averci dato il calamaro, calamari in canna, un altro calamaro anche dall'altra canna ragazzi, hanno iniziato a mangiare. Questo è il nostro calamari. Andiamo dall'altra canna che abbiamo anche lì ragazzi. Allora, eccoci. Allora, eccoci. c'è rimasto attaccato un tentacolino, vedete? Calamaro ragazzi. Calamaro ragazzi. calamaro bel calamaro nel mentre ragazzi guardate l'altra canna un altro calamaro ci siamo voilà continuiamo calamaro ragazzi calamaro ragazzi nel mentre anche l'altra canna guardate anche l'altra canna c'è il calamaro calamaro anche su quella canna centrale e adesso ragazzi anche quella centrale ha il calamaro attaccato andiamo subito a recuperarla speriamo di non perderlo eccoci qua a recupero abbiamo fatto un triplo strike che è divertente calamari a train con artificiali ragazzi davvero super divertente sono senza autopilota quindi è un po più complicato governare la barca ma devo dire che vi sto proprio divertendo siamo quasi vediamo il piombo eccolo lo vedo manca poco guardate che bellissimo calamaro eccoci qua è caduto giù da una vasca eccoci qua proseguiamo ragazzi il calamaro eccoci qua altro calamaro sembra essere anche davvero un bel calamaro guardate che bello guardate che bello abbiamo fatto due calamari abbiamo preso un branchetto calamaro che frittura ragazzi bene ragazzi sono le sette adesso recupero le canne rientro in porto calamari devo dire che ne abbiamo presi un po quindi insomma è andata bene e sono contento per domande qualsiasi cosa giù nei commenti mi raccomando ragazzi per venire a pescare con me www.pescaliguria.it vi aspetto a pesca ragazzi ciao 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 ciao